Biscotti, cioccolato e caramello senza forno Preparate il caramello, sciogliete lo zucchero un po' per volta in una padella antiaderente Aggiungete la panna e a gas spento il buco Il caramello è pronto, tenete da parte Per la ganache, sciogliete il cioccolato gianduia Aggiungete la panna e mescolate, tenete da parte Per la base dei biscotti Sciogliete il cioccolato frullente Aggiungete il burro e mescolate Frullate i biscotti, unite il riso suffiato, il cacao e il cioccolato fuso col burro Mescolate Prendete un po' di impatto con le mani bagnate e fate una pallina Rotolatela nella granella di nocciole Mettete la pallina nello stampino e col manico di un utensile scavate al centro Togliete lo stampino, riempite la cavità col caramello e con la ganache al cioccolato Fate riposare in frigo per 30 minuti Bellissimi E buonissimi Una sciccheria di begliepronti.it Il tuo blog di cucina